Dario Bond era e sarà ancora Presidente del Fondo per i Comuni Confinanti, una istituzione creata per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate e confinanti con le regioni a statuto speciale. Tradizione voleva che il ruolo aspettasse a un bellunese, nella cui provincia è collocato il maggior numero di comuni interessati e così è stato. Sono stato riconformato, devo ringraziare il Presidente Meloni e l'On. Roberto Cateroli che mi ha dato la fiducia. Cercheremo di fare un lavoro soprattutto come abbiamo fatto per l'anno e mezzo prima, cioè concertato con tutti i sindaci per il territorio e lavorando soprattutto per quanto riguarda i territori della provincia di Belluno, della provincia di Vicenza e anche della provincia di Verona. Abbiamo tanti finanziamenti fermi e dobbiamo metterli sul territorio, portarli a compimento, anche perché c'è ancora un problema di costi e di realizzazione di questi cantieri che è elevato e quindi in qualche maniera dobbiamo trovare a quadra anche per far tornare i conti su tutti i comuni. I comuni verranno aiutati da un ufficio competente che è sito presso l'amministrazione provinciale di Belluno con dei funzionali che sono proprio specificatamente adibiti a rispondere ai comuni, alle questioni che riguardano gli appalti dei fondi comuni di confine e anche a tutte le questioni della burocrazia. Il fondo fu istituito dall'articolo 6,7 del decreto legge 2 luglio 2007 numero 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 numero 127 ed è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione a favore dei comuni finanzianti con le regioni a sito speciale. Bond ne sarà presidente senza percepire alcun emolumento. Il lavoro verrà fatto gratuitamente, totalmente gratuito da parte mia. Io vado a Roma tutte le settimane e vado in giro per i territori, compresa la Lombardia. Però ogni tanto bisogna anche essere non attaccati al emolumento e al quattrino ma dedicarsi totalmente agli altri, al territorio, ai bisogni, ai comuni e alla gente.